Grazie a tutti Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. In studio quest'oggi i consiglieri regionali Eros Brega per il Partito Democratico, Andrea Liberati per il Movimento 5 Stelle. Questa è la prima trasmissione dopo un lungo periodo di pausa dovuto all'osservanza da parte di chi lavora nell'informazione nella pubblica amministrazione della Par Condicio e quindi abbiamo fatto un periodo di silenzio fino a che si sono concretizzate le elezioni comunali in tanti comuni italiani. Partiamo allora da qui, uno spunto politico di attualità con Brega e Liberati, anche perché nei pochi comuni Umbri dove si è votato, almeno a giudicare da quello che scrivevano i giornali la mattina dopo le elezioni, avrebbe vinto il centro-destra. Quindi PD e Movimento 5 Stelle sarebbero sconfitti. Dico bene Brega o la vede in un altro modo? Ma io credo che, diciamo così, credo che in Umbria come in Italia si è affermato innanzitutto ancora una volta un grande allontanamento dalle urne, in particolar modo ai ballottaggi, dove si dimostra che all'amministrativa in particolar modo, al primo turno, visto che c'è anche la spinta di tanti consiglieri comunali, un pochino l'affluenza regge, quanto si va al ballottaggio che termina l'interesse di singoli, quant'altro, si va su un confronto molto politico sulle persone, la gente magari diserta le urne. Dunque il primo dato è questo. Non c'è dubbio che il Partito Democratico, in Umbria come in Italia, non ha avuto il risultato, almeno per quello che mi riguarda, che da più parti ci si aspettava. Dovremmo fare, per quello che è di nostra competenza, le giuste e dovute riflessioni a livello regionale e poi a livello nazionale. Mi sembra che il nostro segretario abbia comunque iniziato. Poi si può condividere o no i percorsi messi in campo, però credo che fare finta di nulla non aiuta a nessuno. mai come oggi dobbiamo sempre di più affrontare i temi veri della gente, i temi veri di questa nostra regione e accantonare gli steccati politici che oramai non sono più comprensibili né da una parte né dall'altra. Liberati, ma giudicati dalle analisi politiche, il Movimento 5 Stelle non ha fatto quel boom che ci si poteva aspettare, quindi c'è stato un po' un giudizio negativo anche sulla vostra campagna elettorale, ma magari voi la pensate diversamente. Beh, intanto bisogna dire che il Movimento 5 Stelle oggi ha numerosi consiglieri comunali e sindaci in più in tutta Italia. Abbiamo vinto 8 ballottaggi su 10, in Umbria abbiamo fatto la nostra parte per quanto possibile tenendo presente delle peculiarità di questa regione. Sappiamo come sia ingabbiata in schemi un po' medievali e questo ovviamente incide sulla capacità di influenza di una forza politica che peraltro si presenta per la prima volta, cosa è accaduta sia a Narni che a Todi. Siamo attorno al 10% in entrambe queste località per essere appunto la prima volta in una circostanza piuttosto complicata appunto, quale quella di una elezione locale determinata finora da certe dinamiche che tutti gli Umbri conoscono benissimo e infatti ancora continuano in buona parte ad attingere a quelle. Ecco, considerando tutte queste circostanze noi riteniamo il risultato più conorevole. Diversa cosa sarà l'elezione politica quando mai ci consentiranno di votare, diversa cosa sarà l'eventuale auspicabile elezione amministrativa di Terni che dovrebbe essere alle viste, viste pure appunto le circostanze. Ecco, attendiamo questi momenti per un redder azionem esterno e per far valere le nostre ragioni che restano forti. Allora, veniamo a parlare di temi nostri, Umbri in particolare. Siamo quasi a un anno dal sisma, dalle prime scosse, quelle che hanno prodotto la situazione nella quale tutto il mondo, non solo politico, è impegnato. C'è un proliferare di iniziative per la ripresa, c'è stato l'impegno politico con l'atto approvato dall'Assemblea legislativa sui danni indiretti che ha provocato il sisma, cioè quelli anche per imprese, artigiani, aziende che pur non direttamente colpiti hanno subito comunque la loro brutta flessione. C'è il problema delle macerie che comunque stanno ancora lì. E naturalmente qualsiasi cosa si progetti, da un rilancio del turismo a un rafforzamento delle strutture che portano i turisti in Umbria. Tra poco in aula si parlerà di treni a alta velocità, a media velocità. Si parla di trasporti in generale perché c'è anche una commissione d'inchiesta, visto che le ferrovie hanno lasciato questo buco. Cioè non c'è solo il terremoto, ma ci sono una serie di problemi connessi di cui il mondo della politica si sta occupando. Parto con Eros Brega, la sua commissione ha tra l'altro da poco licenziato e l'Aula ha approvato anche il documento sulla legislazione turistica. Però il turismo va rilanciato se ci sono altre circostanze. Sì, te hai introdotto forse i veri temi di sviluppo su cui credo che nel prossimo metà mandato, perché noi fra qualche settimana, fra qualche mese cercheremo a fare il giro di bova di metà mandato di questa legislatura e credo che i temi da sviluppare ormai siano questi, centrati. Ci aggiungerei il lavoro che credo che sia la priorità oggi all'interno dei cittadini e delle famiglie, poi il resto di sviluppo. Ma il lavoro lo si crea valorizzando anche aspetti che tu hai ricordato. Allora, il tema del turismo è un tema fondamentale per la nostra regione. Lo era ieri prima del terremoto, lo è ancora di più oggi. La nostra economia, nella nostra regione è variegata, ma c'è un pezzo importante che era legato al turismo. Turismo derivante dell'agricoltura, turismo derivato da aspetti religiosi, turismo in generale. Un tema che è legato al turismo è quello delle infrastrutture. Io l'ho sempre dichiarato, non oggi, meno evito di polemiche, ho sempre detto che in Umbria, per quello che mi riguarda, non condividevo, ma non per problemi di campanilismo, perché obiettivamente mi rendo conto che non ci sono le condizioni per l'alta velocità, mentre ci debbono essere le condizioni per legare l'Umbria all'alta velocità. In che senso? Sostengo da tempo che Perugia deve arrivare a Firenze in 30 minuti e Terni deve arrivare a Roma in 30 minuti. Cioè voglio dire, noi dobbiamo collegare i due grandi bacini dell'Umbria, quello al nord, che è appunto Perugia, quello più a sud, che è Terni, nelle due, nell'asse viare Firenze-Roma, per consentire agli utenti e cittadini Umbri di poter raggiungere queste medie, ma per consentire a loro volta, chi vuole venire in Umbria ha la possibilità di non venire a Perugia con due ore e mezza, due ore e tre quarti, delle volte tre ore, e dunque magari andare ad Assisi, ma credo che un investimento fondamentale, importante che si debba chiedere al governo e su cui noi ci dovremmo impegnare è la possibilità di poter far sì che da Roma si possa arrivare a Perugia-Sisi con un'ora, un'ora e un quarto, ma non tre ore, e la stessa situazione verso Firenze. Dunque dovremmo riuscire a trovare questi legami che ci consentono di sviluppare l'attrazione interna e di dare ai cittadini Umbri un servizio vero. E da qua si lega il tema del turismo. Poi, altra cosa, le problematiche del danno indiretto. Noi oggi abbiamo, in qualche maniera, approvato la legge sul turismo che in grandi linee fa delle scelte importanti, ma non sono sufficienti a quella che è la richiesta oggi della nostra regione e degli operatori turistici. Abbiamo solo messo, diciamo, delle norme transitorie per il terremoto, se Andrea si ricorda, votata in unanimità dalla Commissione, in particolar modo per Castelluccio e quant'altro, ma sono piccole norme, piccole cose. Oggi l'Umbria ha bisogno di qualcosa di più attraverso l'immagine del terremoto, attraverso l'immagine di come ripartiremo, diciamo, da un'Umbria ancora una volta, con più al terremoto, si gioca la partita vera di questo territorio. E dunque le scelte sul turismo sono legate appunto alle scelte sulle infrastrutture e rispetto al tema del danno indiretto, ricordo che avendolo già sperimentato in questa regione il danno indiretto, ma noi il danno indiretto dobbiamo, diciamo, circoscriverlo su determinate situazioni e comunque sappiamo benissimo che se non abbiamo l'aiuto del Governo centrale, l'Umbria, non l'Umbria, qualsiasi regione senza l'apporto, il supporto da parte del Governo centrale, noi non possiamo fare nulla. Quando fu applicato qua, ci fu, diciamo, da parte del Governo Prodi mi sembra, un grande sostegno, venne con il Governo individuate le aree, i periodi e comunque delle risorse ingenti e lì ripartì la ricostruzione non solo, diciamo, infrastrutturale dell'Umbria, ma anche, diciamo, di immagine e quant'altro. Dunque io credo che noi siamo tutti impegnati su questo, credo che per quello che, in qualche maniera, di quello che la regione poteva fare fino ad oggi ha fatto, poi delle mancanze di sono state, sì forse, evito io di fare polemiche perché in questo momento credo che le polemiche non servano a nessuno, oggi credo che tutti dovremmo ancora di più unirci per il bene di questa regione, perché come stanno sperimentando gli amici dei 5 Stelle, fare l'opposizione è una cosa, governare è un'altra e l'invito che io faccio a tutti è che quando uno si siede sulla parte, diciamo, di qua per poter governare si rende conto quello che è e dunque il mio invito è che su temi particolari ci si possa tutti insieme ritrovare per il bene della nostra regione e per il bene dell'Umbria. Vedo che il consigliere Liberati ha sorriso e voglio conoscere anche la sua ricetta in questo contesto che abbiamo delineato. Ma intanto ipoteticamente non posso concordare sul fatto che dinanzi, soprattutto a vicende di tali portata, certamente ci deve essere un rassemblement tra forze politiche, tra forze associative, tra componenti della società civile, tra tutti coloro che, persone di buona volontà, intendono dare un contributo in maniera seria, attiva, al di là appunto di ogni vispolemica, di ogni momento critico che non sia appunto costruttivo ma solo distruttivo. Allora, sulla vicenda terremoto, come credo sia noto, sin da settembre dello scorso anno abbiamo tentato di offrire il nostro contributo. È stato un contributo nel segno anzitutto della trasparenza di alcuni dati fondamentali, capire sul tema delle scuole cosa si intenda fare da parte della Giunta, come si intenda, diciamo, di approcciare, come vogliamo approcciare in merito alla riqualificazione degli istituti scolastici. Ma per saperlo bisogna avere i dati. Bisogna avere i dati, ad esempio, di quante strutture siano state connotate dall'analisi vulnerabilità sismica. Bene, tutto questo è arrivato soltanto dopo 8-10 mesi, poche settimane fa, in aula, a seguito di reiterate istanze. Quindi capite bene che per muoversi, se la Regione stessa non è titolare di alcuni dati fondamentali, e poi anche l'amministratore, il legislatore e a seguire tutta la catena, chiaramente ha difficoltà nel cominciare a fare qualcosa. Però voglio dire che sul tema del terremoto poi i problemi sono altri mille. Abbiamo visto come sulla vicenda dell'Una Tantum, per quanto riguarda le imprese, nel cratere, i 5.000 euro. Questi soldi sostanzialmente da febbraio, momento in cui è stata avviata la procedura burocratica, da febbraio non sono ancora arrivati, siamo ormai a luglio. Per quanto riguarda il CAS, il contributo di autosistemazione, io ho ancora persone che mi sollecitano in merito al fatto che non è giunto alle famiglie se non per i primi due mesi, e siamo a luglio. Stanno arrivando, ci risponde sempre, stanno arrivando, stanno arrivando i soldi, ma i soldi che pure ci sono, poi sembra che da parte dei comuni non vengano erogati. Ora, se i comuni hanno problemi, io penso che noi, Regione e lo Stato, dovremmo fare tutto il possibile per rimpinguare gli organici. Ma poi c'è un problema ovviamente di modello ricostruttivo. Quale ricostruzione? In realtà siamo ancora nell'emergenza. E nell'emergenza vengono fuori i primi affari, i primi affarismi, direi. E su questo, già in ottobre, il primo ottobre, segnalammo come ci fossero dei rischi. Il fatto che, e questo l'abbiamo più volte denunciato, e ora se ne è accorta anche la grande stampa, il fatto che ci fossero dei mezzi cooperative che non avevano mai costruito alcunché nell'edilizia, tantomeno nell'emergenza, che avevano fatto sempre tutt'altro. Allora, su questo, capire un attimo come vengono gestiti dalla Consip in giù, gli appalti, subappalti, subappalti, e fino all'ultimo effettivo costruttore, realizzatore delle casette. Quindi c'è ancora tanto su cui, voglio dire, tentare di fare di meglio, ma se è un dialogo tra sordi, se queste cose le dicevamo settembre-ottobre, e nessuno ci ascoltava, o poche persone comunque, e se l'ha giunta comunque non ci ha ascoltato, ora siamo a 100 casette su circa 900. La ricostruzione è una chimera al momento. Perché è una chimera? Qui va detto, questa è una critica che a mio parere la stessa regione, giunta regionale, doveva sviluppare nei confronti del governo. Poi c'è qualcuno che dice, ma anche tra i dirigenti della regione, ma chi ci senta? Ma come chi ci sente? Basta proporre qualcosa di ragionevole. Noi abbiamo grande esperienza, purtroppo, nella sismica. Allora, è stato proposto per l'ennesima volta un modello ricostruttivo nuovo. E questo sta generando, ingenerando, grandissimi problemi tra i redattori, ovviamente, dei progetti che non vogliono andare avanti perché sono costretti ogni volta a redigerli di nuovo con, ovviamente, altre problematiche susseguenti. Quindi ci vorranno, sembra, tre o quattro anni solo per cominciare. Dieci anni per finire, perché questa è la media, purtroppo, di questo sistema folle. E alla fine cosa avremo fatto se non ci sarà un progetto economico e culturale su quei territori? Per questo va sempre ricordato il caso di Nocera Umbra. Nocera Umbra è stata svuotata venti anni per ricostruirla. Adesso non c'è nessuno, o meglio, nel centro storico, ovviamente, ci sono grossi problemi, oltre le crisi del circondario. Poi il tema della connessione, e faccio molto velocemente, direi che è il tema fondamentale per sospingere qualsiasi politica turistica. La connessione con il resto d'Italia. Sono stato recentemente in Trentino Alto Adige. C'è una freccia, dei tanti, che arriva direttamente, ovviamente, non dall'Umbria, e ce ne sono diversi, appunto. Dice, beh, il Trentino è una regione ricca. Sì, ma anche la Basilicata adesso ce l'ha. Non mi pare che sia una regione ricchissima, no? Al di là del fatto che hanno il petrolio, adesso hanno scoperto, ma poi le roglie alti si distribuiscono in un certo modo. Comunque, il treno ad alta velocità, lì, anche tra Bologna, Modena e Verona, va a 150, tra Modena e Verona. E poi ancora meno, 130-140, però c'è un collegamento diretto che consente sostanzialmente una maggiore attrattiva per la clientela business e per la clientela, ovviamente, semplici turisti, customer, diciamo, generali. Allora, tornando a questo, noi sulla ferrovia nazionale siamo disconnessi. Si può fare molto, è stato giustamente ricordato, mezz'ora per Roma, mezz'ora per Firenze, lo sosteniamo anche noi. Poi, tuttavia, siamo ancora davvero al medioevo trasportistico. C'è molto da fare. Mi pare che non sia stato individuato proprio, posso dire, il progetto trasportistico per l'Umbria, eccetto quello noto, diciamo, delle tratte trasversali o longitudinali e 45 e le altre, diciamo, trasversali. E quindi su questo c'è moltissimo da fare. Il rischio di avere una camionabile, come appunto è oggi la E45 e le altre trasversali, e una ferrovia distrutta, oltre al fatto che quella regionale, di cui abbiamo discusso oggi, se non erro, Eros, ci dimostra come la mala gestio della regione si sia purtroppo pesantemente infiltrata. Quando parliamo di turismo e poi viene meno l'infrastruttura ferroviaria, perché non ci sono le condizioni di sicurezza per quanto riguarda quella regionale, con trani che vanno addirittura a 10 km orari, quando la tratta non è chiusa, voi capite bene che c'è molto da fare. Presidente Brega, presidente di seconda commissione consigliare, quindi avrà il suo da fare per dirigere queste faccende, perché a quanto capito la burocrazia non è solo un ostacolo per chi deve togliere le macerie dalle zone terremotate, ma finisce per diventare un ostacolo anche vostro, cioè nei confronti della politica, che ha rapporti con altri enti che debbono subentrare o no. Ecco, come si agisce? Sì, io credo che in Umbria bisogna avere il coraggio di fare alcune scelte fondamentali per capire se vogliamo continuare ad avere un ruolo nel futuro guardando veramente verso l'Europa o se vogliamo rimanere isolati. Andrea lo ricordava, io credo che ormai in Umbria abbiamo gallerie e sufficienza, abbiamo bucato tutto ciò che potevamo bucare, abbiamo fatto strade da tutte le parti e non abbiamo investito, diciamoci la verità, assumendoci anche le responsabilità, dove ognuno in maniera proporzionale, anche io che sono un legislatore da tanti anni, abbiamo investito poco, diciamo, su il ferro, abbiamo investito troppo forse sulle strade. Ecco, credo che l'Umbria debba rivedere il suo business di investimento e anche i suoi investimenti sul tema delle rotaglie, del ferro, perché oggi come oggi è impensabile, ribadisco, che noi abbiamo anche un aeroporto a Sant'Egidio dove ogni giorno qualcuno scrive, ogni giorno leggo che tratte, vettori o d'altro, ma se poi alla fine noi non portiamo gli utenti a Sant'Egidio, l'aeroporto non decolla, non riesce ad avere, ok? Perché se noi pensiamo che neanche l'utenza Umbra va da Sant'Egidio, perché se io penso appunto all'Umbria, diciamo, del sud, che il 90% delle persone che devono prendere l'aereo, anche con tratte che magari vengono coperte da Perugia, vanno tutti a Roma, perché magari prendendo il treno, comunque tra treno e trenino con un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, stai a Fiumicino e dunque hai una scelta maggiore, non c'è l'abitudine, non c'è nulla che culturalmente possa portare le persone a Sant'Egidio a prendere l'aereo. C'è neanche la fermata del treno. C'è neanche la fermata del treno. Se arrivi con la macchina, cioè voglio dire, noi abbiamo, cioè sento parlare, e ci sono delle cose basilari. Se noi pensiamo che Terni-Perugia, insomma, con il treno, credo che uno con la cent'Egidio, due ore e un quarto, non è concepibile, non è più concepibile. Cioè non è più concepibile, non è concepibile per gli studenti, per gli universitari, non è più concepibile. E dice, allora, giustamente le persone che ci ascoltano, dice, vabbè, se lo dice Liberati, lo dice Brega, che non è concepibile, c'è noi cittadini che... Allora, giusto. Ecco, dunque credo che ognuno nei propri ruoli, consigliere Liberati, consigliere di opposizione, consigliere Brega, consigliere di maggioranza, e, diciamo, da tanti anni non siamo qua, oggi non è più rinviabile questo tema. Il tema delle infrastrutture su ferro è fondamentale, perché attraverso questo, diciamo, sviluppo, si può riallacciare qualcosa di serio con il resto dell'Italia e con l'Europa, sviluppando turismo e sviluppando imprese. Se noi non investiamo oggi sul ferro, sui collegamenti e non riportiamo l'Umbria e i suoi bei territori ad essere centrali di questo, oggi la gente decide di andare da altre parti, perché, diciamoci la verità, l'Umbria è bella, l'Umbria ha tanti, diciamo, ammiratori, ma se poi non riusciamo a dare quell'offerta che è legata non solo dal buon cibo e dal bell'albergo, ma anche dal fatto delle infrastrutture, dei treni e quant'altro, credo che oggi la gente possa decidere di andare da altre parti. Dunque, questo credo che sia il primo impegno da prendere e anche, come appunto dicevi, a livello burocratico, come Commissione, stiamo lavorando per cercare insieme di dare questo contributo auspicabile, insomma, senza divisioni, ma per il bene e gli interessi. con una battuta che Andrea diceva, che io condivido, sul modello di ricostruzione, cioè, non si può continuare a cambiare modello purtroppo in regioni dove sono abituate, cioè, ad avere il terremoto. Credo che l'Umbria aveva sperimentato purtroppo un buon modello Umbro in diverse ricostruzioni, credo che oggi abbiamo dovuto accettare l'investimento su un altro modello e che ha ricambiato un po' una burocrazia che era abituata ad altro. Speriamo che i risultati diano ragioni, però ecco, mi auguro che queste scelte portino risultati e non problematiche ai cittadini, perché poi effettivamente su 900 richieste ce ne sono 100 e poco più, insomma, poi su altro non entro, però sul modello scelto io lì forse capisco che però questa è una scelta governativa che non è in capo e che non è stata in capo alla regione e che non è stata in capo agli organi di governo di questa regione in qualche maniera però è normale avere delle verplessità. Ci sono un paio di minuti scarsi a testa per l'ultima domanda mi sembrava la puntata giusta per farla spendere gli ultimi minuti da trasmissione ci vorrebbe una intera. Liberate il candidato lo sindaco interno? Non ancora, però volevo parlare di quella città cioè della conca ternana della situazione ambientale per cui Liberati si batte estremamente ma anche lei è ternano di nascita e di residenza. Allora comincio da Liberati vi prego di fare una sintesi Terni situazione della conca ternana dal punto di vista prendiamo solo questo ambientale per ora. Io sinceramente non saprei cosa aggiungere rispetto a tutto quello che è stato sinora detto scritto certificato in merito all'esteso disastro ambientale in corso da anni in quella città sottaciuto da tempo per diversi motivi che è inutile esporre tanto li conoscono tutti il segreto di Pulcinella è chiaro che occorrono investimenti giganteschi anzitutto da parte della Thyssen Group parliamo di investimenti tra il mezzo miliardo e il miliardo non c'è ancora l'esito invece e quindi siamo in grande ritardo per quanto riguarda la vicenda della partita della gara per il recupero delle scorie dell'acciaieria quindi non sappiamo chi abbia vinto se abbia vinto come lì c'è un disastro in corso noto arcinoto di una percolazione di metalli pesanti nelle falde acquifere sottostanti e purtroppo ancora nessun intervento sì è stata approvata una mozione qui in regione ma io non ci credo alle favole qui bisogna mettere alle strette sul piano strettamente punto legalitario la multinazionale ricordando tutto quello che ha avuto da questo territorio ha avuto persone che hanno perso la vita per i mali che si sono sviluppati ha avuto produzione e introidi giganteschi per anni ha subito ammortizzato la spesa all'epoca ha dato poco ha dato poco ha preso molto anche in termini appunto di vita umane e io questo non posso dimenticarlo perché ci sono tra costoro amici persone che cui ho voluto bene e io credo che questa presa di coscienza dovrebbe essere anche da parte di alcuna autorità non è possibile che ripeto piccole e medie imprese devono stare su un piano strettamente appunto di rispetto delle regole di ogni regola e ad alcuni multinazionali venga considerato tutto quello è il centro focale dello sviluppo della città oppure di qualcos'altro che ancora non conosciamo rispetto a questo è evidente che c'è una sfida gigantesca che va intrapresa ma la politica al momento è un po' afona per quanto noi voglio dire tentiamo di muoverci e fare il massimo io non vedo presa di coscienza da parte della classe politica locale mi consenta allora di concludere con Eros Brega su questo argomento sulla città di Terni su quello che la politica farà per la città di Terni per i problemi che abbiamo sentito guarda questo è un tema molto delicato poi Andrea richiamava in qualche maniera anche temi diciamo legati alle persone così dunque io credo che uno dovremmo affrontare questo tema come io dico sempre bisogna fare in politica su temi importanti senza amore e senza rancore cioè bisognerebbe bisogna avere la freddezza di accantonare i sentimenti per fare le scelte giuste perché sono temi talmente delicati perché Andrea parte lo ricordava la firme attraverso la Thyssen per quel territorio ci passa tutto cioè la sovravivenza di Terni in termini economici in termini ambientali comunque lega quel territorio gli lega il futuro cioè parliamoci veramente Terni ma anche l'Umbria senza la Thyssen Group non ci sarebbe più Terni o comunque non ci sarebbe più la città quella Terni che bisognava in qualche maniera forse pianificare 30 anni fa oggi noi non siamo in grado di pianificare una cosa di 30 anni dobbiamo gestire al meglio ciò che abbiamo con la freddezza che ci si impone l'esigenza costante per fare questo e dunque accantonare i sentimenti perché ognuno di noi su questo tema lascia un pezzo proprio perché in ogni famiglia ternana non credo che non ci sia in una famiglia dove non c'è stato non c'è un padre un nonno uno zio o un fratello che non abbia lavorato all'interno dell'acceglieria e dunque ogni ternano e poi anche in Umbria ci dimentichiamo che l'acceglieria ha avuto circa nel passato anche circa 13.000 dipendenti di cui da tutta l'Umbria ok ecco lì passa lo snodo lo snodo ambientale negli anni la Thyssen aveva fatto investimenti importanti sicuramente va ripreso un rapporto vero però io non voglio difendere la Thyssen dico solo una cosa non si può gettare sulla Thyssen le mancanze della politica abbiamo il coraggio di dire questo Andrea perché in quella città nella mia città sono per troppi anni è mancato e manca il ruolo della politica l'autorevolezza del ruolo della politica la chiarezza del ruolo della politica la legalità del ruolo della politica faccio io il grillino l'ho fatto per tanti anni lo ripoglio fare in quella città sono anni che oramai manca una vera classe dirigente all'altezza della situazione si è pensata ad altro e non si sono pensati a sviluppare temi di questo tipo ecco io credo che oggi dobbiamo tutti essere chiamati a un senso di grande responsabilità compresa da Thyssen in gruppe però dobbiamo avere il coraggio di non gettare su altri le responsabilità che non ci sono la politica deve avere il coraggio compreso il sottoscritto di fare quelle scelte che obblighino quella città e a quel punto si chiama a raccorta la Thyssen tutte quelle imprese che sul territorio hanno avuto profitto e hanno profitto costruire con loro un piano di sviluppo dove ognuno per il proprio ruolo investe con una chiarezza una trasparenza e nel rispetto delle leggi è finito deve finire in quella città il sovrapporsi di ruoli che come si è dimostrato alla città non sono serviti basta credo che in quella città mai come oggi vada messo un punto e bisogna ricostruire un rapporto totale per il bene dei cittadini e di quel territorio bene su questo dobbiamo fermarci avevo premesso che ci voleva una trasmissione intera per sviluppare quest'ultimo argomento l'abbiamo accennato io auguro ai consiglieri regionali buon lavoro perché alla luce di quanto abbiamo sentito ne avranno da fare nei prossimi mesi e ringrazio naturalmente i telespettatori per averci seguito anche in questa puntata l'appuntamento è fra sette giorni grazie a tutti Grazie a tutti.